Ciao, siamo i bambini della classe Guasta, della scuola primaria di Bagnoleggio, dell'Istituto Omnicompensivo Fratelli Agosti. Per questo progetto abbiamo realizzato una poesia ed un cartellone perché crediamo che sia importante utilizzare l'energia pulita per salvare la nostra terra. Pensiamo però che serva sempre giudizio anche nell'uso delle energie pulite. Ecco la nostra poesia. Noi vogliamo l'energia pulita per migliorare la nostra vita. Perché è un serio pentimento per salvare il vidamento. Il mare è soffocato dalle schifizie che ci abbiamo buttato. Tutta la plastica che abbiamo prodotto ha formato un enorme sonoro. Su cui non c'è vita, su cui non c'è pace, è solo una massa che non ci piace. Ma tu lo sai che l'effetto serra sta cedendo la nostra terra. Le fabbriche bruciano, i ghiacciagli si sciogliono, i mari si alzano e gli uomini muoiono. La terra si scalda velocemente e noi buoni in silenzio è affaliente. Dobbiamo cercare, produrre ed usare altre forme di energia perché è rimasta l'unica via. Ormai lo sappiamo, il concetto è acquisito, serve poco e è garantito. Un mondo più pulito, senza tanti inquinamenti. Basta solo il caldo sole e la forza del buon vento. Buonasera, sono Stefania Vannozzi. Vi invito con tutto il cuore a votare la scuola primaria di Bagnoregio, con la classe quarta, che hanno fatto dei capolavori. Sono stati bravissimi, bambini molto curiosi, con delle insegnanti che le stanno veramente educando nella maniera giusta per un futuro importante ecosostenibile, ma soprattutto di sostenibilità. Aiutateli a vincere l'ambito premio che li servirà tantissimo nello svolgimento dei loro programmi. Grazie. Grazie.